Sì, ho visto AAAAAH Ma che c***o però, hanno anche tutti one shot 10 g raga Vabbè ha fatto un lavorone con l'eco eh Comunque qua era impossibile Vincere, dove si tenero? Silenzio raga, silenzio Sì, down Trampinano da me Nemico trovato Oh mio di laga Oh mio di laga Oh mio di laga Di recuperare il disinnescatore Niente Tutti morti sotto Ok, una kill fatta Oh 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 ragazzi una la facevo una la faceva dopo fatto quadro la sax è questo che cazzo che cazzo di one tap che ho tirato ragazzi ho fatto due one tap gg passare da ultimo a primo se il gioco mi fa giocare se mi fanno giocare li faccio anche le kill a queste se mi fanno giocare se mi fanno giocare li faccio anche la quadrupla come ho fatto adesso bellissima sta quadrupla mamma mia bellissima 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 del poco bellissima sta quadrupla spero ti sia piaciuta dopo dobbiamo individuare una bomba bella bella ho preso un infarto perchè ho visto la band che mi piacciava e ho detto dio cristo adesso metterò un c4 12 5 4 per i sax gg e che chi è ragazzi dobbiamo parlarne 10 secondi all'interno che dice che voto dai a questa quadrupla dopo 2 100 ai q ragazzi 200 ai q oggi suon su 4 e 4 dimenticasse defuse al cazzo minuto e mezzo della fine grazie a un minuto della fine grave grazie a tutti my god ragazza le tuba che questa mamma mia 200 e che ora gaffa che cazzo se ne avranno la porta di bed non sono morto dio cristo è un obiettivo abriccio l'obiettivo 4 kills per sacco 4 kills per sacco 4 disinnescatore trovato proteggete le bombe disattivate il disinnescatore scale 1 4 quadruple ho fatto una quadrupla della madonna ho fatto una quadrupla della madonna guarda che cazzo ho fatto se rimani in questa zona la tua posizione è stata compromessa guarda che cazzo la squadra d'attacco ha eliminato i difensori ma che cazzo l'ha vista la camerina la squadra è stata la squadra è stata Sì ultimo nemico rimasto eccole uno che killo che killo che killo Ashes squadra di attacco eliminata missione completata passate il maligno drone pronto a partire Sì 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 G da canale questa G da canale G G Sì 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 Oh, Jesus. Il disinnescatore è di nuovo nostro. Il suo rimasto. Non dimenticato per me, in bathroom. Disinnesco bomba affiato. Proteggete il disinnescatore. La squadra d'attacco ha eliminato i difensori. Che cazzo?